Mentre nel resto d'Italia si può parlare di autunno anomalo con temperature ben al di sopra della media stagionale, in Sicilia continua l'instabilità con una tregua prevista giusto per il weekend. Dunque da oggi e fino domenica su tutta la penisola ci si aspetta sole e temperature estive. In particolare nelle regioni del centro-sud si toccheranno i 25-26 gradi. Insomma, magari quello del 2018 non passerà alla storia come uno degli autunni più caldi di sempre, ma sicuramente può essere considerato un'anomalia. In Sicilia il meteo sta rispettando tutto sommato la stagione, anche se nelle giornate soleggiate le temperature ricordano più l'estate. Ma non durerà ancora per molto. Gli esperti infatti annunciano un brusco calo delle temperature all'inizio della prossima settimana, che le avvicinerà a quelle tipiche della stagione in corso. Il meteorologo Vincenzo Insinga di 3bmeteo.com parla di un proseguimento dello scenario che si è presentato in Sicilia dalla seconda parte dell'estate. Il mese di agosto nell'isola è stato il più piovoso da quando esistono le reti di rilevamento, cioè dal 1920. La causa, spiega Insinga, è il posizionamento anomalo dell'anticiclone nel nord Europa, che ha lasciato scoperto il Mediterraneo. In quest'area, quindi, è stato più difficile il formarsi di diverse fasi depressive e lo stazionamento per giorni. L'instabilità in Sicilia continuerà nella giornata di oggi, soprattutto nella parte orientale. Il weekend riserverà una tregua in tutta l'isola, con un rialzo passeggero delle temperature, mentre all'inizio della prossima settimana si potrà avere il primo vero assaggio di autunno, con un brusco calo delle temperature, accompagnato anche da venti di tramontana e nuove perturbazioni, soprattutto nell'area settentrionale, in particolare nel palermitano e nel messinese.